su chi fa cosa e soprattutto come. Allora, Maurizio Lupi è stato anche ministro ed è una persona molto competente. Grazie. Di questo credo nessuno possa dubitare sulla sua forza, sul suo combattimento, ha fatto tante cose, è stato uno secondo me dei ministri più bravi che abbiamo avuto in questi ultimi anni. Dov'è la difficoltà di riuscire a snellire? Cioè ne parlava Gioliti, io lo cito sempre in discorso di Gioliti degli anni 20, la burocrazia uccide l'Italia, ma dov'è che si ferma tutto? Ma guarda, intanto buonasera a tutti e grazie anche a... Per scambiare un po', non è così siamo più... Ringrazio anche io Guido per Grimaldi per averci invitato. Purtroppo nel 2014, 2013, 14 e 15, quando ho fatto il ministro c'era un dato che rimane ancora ad oggi, per capirci. Per fare un'opera pubblica da 100 milioni di euro, oggi occorrono 17 anni e 6 mesi. L'80% di questo tempo sono in pratiche burocratiche. Il resto è nell'assunzione di responsabilità. Allora, c'è un momento in cui anziché guardarsi con la testa al passato, perché ormai siamo nel 2021, forse possiamo farcela, ed è questo. In questo momento siamo tutti insieme, anche la Meloni essendo l'opposizione, ma ha comunque una posizione responsabile, eccetera, e capiamo che è in gioco. 221 miliardi di euro, abbiamo appena approvato i 30,6 miliardi di euro complementari, in sei anni, perché i tempi sono dettati la possibilità di rilanciare l'Italia, il tema delle infrastrutture complementari, cioè non solo singole, materiali, immateriali, porti, interporti, strade, autostrade, tu sei meglio di me. In questo cavolo di paese abbiamo costruito l'alta velocità e non l'abbiamo manco collegata ai tre grandi aeroporti internazionali, perché ognuno ragionava per conto proprio. La vostra intuizione, lo sa bene Guido Grimaldi, è quella di mettere insieme finalmente, non solo per verticale ma anche per orizzontale. Allora, il concludo, secondo me l'unica soluzione è avere il coraggio di assumersi le responsabilità, perché possono servire le leggi, le semplificazioni, le sburocratizzazioni, ma c'è qualcuno che tira fuori gli attributi e dice io decido, il modello Ponte di Genova, e concludo perché c'è qui Edoardo, certo il commissariamento, eccetera, ma c'è stato un signore che è diventato commissario e che ha deciso di decidere e di assumersi le responsabilità anche contro gli avvisi di garanzia, gli abusi di ufficio, il traffico di influenze, tutto quello che esiste. Allora, forse questo è il momento in cui lo possiamo fare. Secondo me, e concludo, il DL semplificazioni, se non viene modificato in peggio dall'ideologia che come sempre dice che se semplifichi c'è la corruzione, invece io sono convinto che l'opposto, più semplifichi e più sei trasparente, anche se meno corruzione c'è, forse meno passaggi hai, meno passaggi hai, quanto meno riduci. Se tu dici una concessione te la do in 60 giorni, e perché devi? Te la do in 60 giorni, se poi non te la do, guarda cosa hanno fatto sul 110%, bonus, una buona cosa, 95 passaggi burocratici. Adesso hanno avuto il coraggio di capire che presenta la Cile e vai avanti. Senta Cangiano, visto che la... visto che la...